ciao questa è ronda e max e questo è un milione di dollari ma c'è una piccola condizione devi spendere tutto in 24 ore puoi farlo è facile ho dimenticato i soldi ma non dimenticate di iscrivervi al canale cliccare sulla campanella e mettere un like aspettami l'intero centro commerciale è invidioso possiamo comprare tutto ciò che vogliamo cosa abbiamo speso solo 14.900 dobbiamo inventarci qualcos'altro vai vogliamo comprare un parco divertimenti a chi diamo i soldi aspetta un secondo 550.000 dollari questo parco divertimenti è nostro no 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 Sì, sì. Sì, sì. Le stelle? Giusto! Andiamo nello spazio e compriamo la luna! Un viaggio nello spazio richiede molta preparazione! Testare il sistema vestibolare! Addio colazione! E provare una tuta spaziale! Tutti pronti? Via! Aiuto! Posso uscire! Dobbiamo parcheggiare sulla luna! Andiamo! Wow! È accogliente qui! La luna è un grande acquisto, Ronda! Dobbiamo prenderla! Diamo un'occhiata al cartellino del prezzo! Quanto costa? Wow! Quanti zero! Questo prezzo è altissimo! È troppo cara! Torniamo sulla Terra! L'arte è costosa! Ma questi quadri sono così noiosi che non vogliamo nemmeno pagarli! Abbiamo bisogno di qualcosa di più figo! Ho un'idea! Andiamo! Questo è Zack! È uno studente normale che ama Minecraft! Ciao, Zack! Abbiamo bisogno di un capolavoro di Minecraft! Sorprendici e ti daremo un sacco di soldi! Ok! Alcune risorse! Pixel perfettamente scelto! Qualche clic! Ecco fatto! Il quadro è pronto! Lo so, lo so! Sono un professionista! Pagatemi! Ecco centomila dollari! Ben fatto! Andiamo, ronda! Essere ricchi è così bello! Amo la vita! Bel lavoro, figliolo! Ti sei guadagnato la retta del college! Vuoi andare ad Harvard? Per favore! Questo è il mio sogno! Voglio volare con Spider-Man! Ti imploro! Ok! Grazie! Sei fantastica! Pronto? Pronto, Spidey! Ho un affare per te! Ok, arrivo! È lui! Il mio eroe! Posso fare un giro con te? Non ho bisogno di soldi! Salta su, Max! E i soldi! È così altruista! Woohoo! Questo è il ristorante più costoso della città! Non abbiamo bisogno del menù! Ordineremo tutti i piatti che avete! Questo è il nostro sogno! Pizza! Sushi! Hamburger! Patatine fritte! E un'altra doppia pizza! Wow! I nostri stomaci sono così felici! Ma è solo 500! Come possiamo rendere questo piatto più costoso? Wow! Salt Bay ha cosparso la nostra pizza di sale! E il prezzo dei piatti sale a 25.000! Ora possiamo mangiare! Sono piena! Aiuto! Duffo nella jacuzzi! Wow! Ci sono dei delfini che nuotano nella mia vasca idromassaggio! Svegliati, ronda! Dobbiamo ancora spendere un sacco di soldi! Non possiamo ignorare queste fantastiche scarpe da ginnastica! Ma vogliamo il meglio! Queste sono troppo nere! E queste sono troppo basic! Queste sono troppo semplici! E non c'è niente di speciale in queste! È così difficile scegliere le sneakers perfette quando si hanno soldi! Sì, ragazzi! So cosa state cercando! Nessun altro ha queste! Fammele provare! E l'altra? Wow! Le adoro! Sono un sogno! Diventerò popolare su TikTok! Non sono gratis, amico! Quanto costa? 160.000 dollari! Bene! Benvenuti all'Apple Store! Vogliamo il telefono più costoso! Il prezzo non ha importanza! Capisco! Questo è il nostro ultimo modello! No! Abbiamo bisogno di più! Che ne dite di questi? No! Vogliamo il telefono più grande e più costoso! Ok! Questo modello va bene? Sì! Paghiamo i contanti! Grazie! Fermati! Hai dei soldi! Ho un'idea! Ti presento l'Ultra Pro Digital Crusher 3000! È una mia brillante invenzione! Wow! Sono disposta a investirci! Ci metto tutti i miei soldi! Non te ne pentirai! Max! Aspetta! Stai spendendo soldi senza di me? Siete insieme? Ok! Vi mostro come funziona il mio Ultra Pro Digital Crusher 3000! Attenzione! Lancio! Preso! Spero che ne sia valsa la pena! Centomila dollari! Bello! Andiamo avanti! Non è stato facile, ma abbiamo speso tutti i soldi! Guarda, Max! Il timer è ancora attivo! Vuol dire che ci sono ancora soldi? Ma dove? Oh no! Gli ultimi cento! Non li abbiamo spesi tutti! Ti è piaciuta la nostra sfida? Scrivi qui sotto per cosa spenderesti un milione di dollari in un giorno! E ragazzi, iscrivetevi al canale! Mettete mi piace al video e cliccate sulla campanella! Non perdete nessun nuovo video esilarante di Woohoo!